La vecchia casa dei Ferragni Ezza City Life è stata messa in affitto, vediamo quanto costa e che cosa c'è dentro. Come sempre prima di iniziare però vi chiedo di supportare il mio lavoro iniziando a seguirmi, lasciandomi like, lasciandomi un commento e salvando questo video. L'agenzia Rasuito Prestige ha rimesso in affitto la celeberrima ormai ex casa di Chiara Ferragni e Fedez che come sicuramente sapete hanno di recente cambiato casa andando a vivere in una residenza ancora più lussuosa forse di quella precedente. La casa si chiama Penthouse Stravinsky e si trova all'undicesimo e ultimo piano di una delle residenze Hadid a Milano City Life, uno dei quartieri più esclusivi della città. La casa include 477 metri quadrati, 4 stanze da letto, 4 bagni, 3 posti auto e ovviamente una con sergerie quindi un servizio di portineria al piano terra per garantire la sicurezza di tutti i residenti. Il prezzo non esattamente per tutte le tasche, al mese infatti l'affitto è di 35.000 euro. Che cosa ne pensate? Taggate qualcuno a cui piacerebbe vivere in questa casa. Grazie a tutti.